ANSA, Lamezia Terme, Catanzaro, 23.8. La commissione da accesso nominata nello scorso mese di giugno nel comune di Lamezia Terme ha proposto lo scioglimento dell'ente per infiltrazioni mafiose. L'accesso nel comune di Lamezia, era stato disposto dal prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, su delega del ministro dell'Interno, a seguito dell'operazione Crisallide. Condotta dai carabinieri su direttive della DAD di Catanzaro contro la cosca Cerra Torcasio Gualtieri, e che aveva portato a decine di arresti. Nell'inchiesta sono indagati il vicepresidente del Consiglio Comunale Lamettino, Giuseppe Paladino, poi dimesso Oesi, e Pasqualino Roberto, candidato a sindaco nel 2015, e sospeso dalla carica di consigliere comunale dal prefetto di Catanzaro dopo essere stato arrestato nel febbraio scorso nell'operazione Robinhood. Condotta sempre dalla DAD di Catanzaro, sul presunto utilizzo illecito dei fondi comunitari destinati alle famiglie bisognose e distratti, secondo l'accusa, anche col concorso di presunti affiliati a Cosche Lamettine. Condotta sempre dalla DAD di Catanzaro, sul presunto utilizzo dell'interno dell'operazione Robinhood.